Buona giornata da Nico Schiodetto. Situazione dal satellite che ci illustra ancora l'ennesima giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte d'Italia per la presenza dell'alta pressione nord africana con aria calda dall'entroterra sariano verso le nostre regioni. Osservate però come l'area alpina e l'estremo nord ovest sono già lambiti da una certa nuvolosità. Si tratta di infiltrazioni di aria un po' più umida e fresca da ovest della Francia che nella giornata di domani invaderà tutto il nord causando temporali anche di forte intensità severi. Intanto nelle prossime ore è bel tempo ma con temporali serali sul medio alto Piemonte, Varesotto, Alpi, Lombarde e Valle d'Osta. Attenzione torinese, biellese e verbano a scrosci di pioggia anche intensi. Domani invece vi sarà proprio il cedimento dell'alta pressione con il passaggio di un minimo depressionario in quota e dentro pomeriggio temporali al nord ovesti, marcia poi durante il tato pomeriggio e la serata anche al nord est. Abbiamo segnalato però celle temporalesche che potrebbero risultare anche violente con locali grandinate e colpi di vento specie tra est Piemonte, Lombardia e Veneto. Temperature domani via via in flessione al nord, osservate invece come sarà una giornata bollente all'esterno sud con massime prossime ancora ai 38-40 gradi. Cosa succederà nel weekend? Perché l'alta pressione terrà i suoi massimi un po' più ad ovest, sarà comunque un weekend abbastanza buono e non escludiamo da domenica dei temporali su Alpi e parte di nord est. Però l'evoluzione è incerta, seguite gli aggiornamenti sul nostro sito web.